Ben ritrovati nella rubrica dedicata alle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale oggi vedremo come è possibile animare il disegno di un bambino si capisce dall'anteprima, il disegno viene generato da un bambino fatto in maniera molto molto semplice su un foglio bianco si va all'interno di sketchmetademolab.com ci si può arrivare anche dal mio sito sefaccioimparo.it oppure cercandolo sul motore di ricerca a questo punto senza bisogno di registrarsi quindi è molto molto semplice, è sufficiente avviare, iniziare il lavoro andiamo a caricare una fotografia, un disegno fatto da un bambino come ci fa vedere l'anteprima, abbastanza intuitiva come applicazione io ho realizzato un piccolo disegno, non sono il mago del disegno ma insomma molto molto semplice su carta bianca, l'ho anche firmato volendo si può scattare direttamente una fotografia se siamo da smartphone il sistema funziona ugualmente, una volta caricato il nostro bambino ecco, non è granché come disegno però comunque rende l'idea vado avanti, lui fa la scansione, identifica diciamo alcuni punti clicchiamo pure su EGRI, selezioniamo la zona in questo caso io voglio animare un solo bambino perché ho una sola immagine, in questo caso è possibile anche allargando tutto quanto animare anche il nome, animare una seconda immagine quindi si può selezionare la zona da animare il passaggio successivo prevede ancora una scansione da parte dello strumento qua ci chiede eventualmente di evidenziare le zone che vogliamo animare noi lasciamo già quelle di default, le linee tanto vengono abbastanza riconosciute altrimenti si seleziona questa zona qua e si sceglie magari di animare soltanto le braccia o soltanto la testa, non per forza bisogna animare tutto il corpo vediamo cosa ci propone lui vado sul next, fa ancora la scansione e mi dà i punti che si possono animare volendo posso variare questi punti, aggiungere degli altri elementi guardate qua, sposto magari questo puntino esattamente con il gomito nonostante è un gomito un pochino diciamo non proprio proporzionale al resto del corpo però questo prevede che possiamo decidere noi quali punti si possono animare il bacino potremmo farlo anche un pochino più alto comunque al di là di questo andiamo ancora avanti e lui sta spanzionando tutto quanto e mi fa vedere come il mio Mino, il mio Baisabi corre posso scegliere vari modelli e quindi lui potrebbe salutare saltando possiamo scegliere la danza e quindi partiamo da un momento di danza classica ok, vi manca una mano perché insomma avrei dovuto forse ripassarla perché non si vedeva bene vediamo qua posso scegliere altri elementi di animazione ok, walking, jumping, quindi scegliamo un po' noi cosa vogliamo fare supponiamo di farci una bella passeggiatina in questo modo a questo punto il mio Mino che passa può essere ovviamente modificato se clicco qua posso lavorarci ancora ok quindi guardate upload foto, bimbo e quindi ripartire dal disegno oppure con i passaggi che abbiamo visto prima rapidamente senza fare altre variazioni ecco qua mancava la mano prima forse è il caso anche di prendere la mano selezionandola qua vado su questo mio ultimo lavoro una volta che ho deciso cosa condividere vado su share a questo punto posso scaricarmelo tramite airdrop piuttosto che altri sistemi modifiche estensioni mi dà un semplicissimo file nel formato copiando il link o scaricandolo ok, un file che posso tranquillamente se faccio copia link condividerlo posso scaricarlo sotto forma di file mp4 e mi dà 3 secondi o 6 secondi di animazione ok, vado avanti ancora ok questo è il link al mio documento alla prossima ricordatevi che i disegni dei bambini possono essere sicuramente inseriti in uno storytelling montati con altri racconti, in altre applicazioni, in altri programmi buon lavoro